Una buona giornata, ben ritrovati con Mattino 6 in questo venerdì 10 novembre, siamo pronti per andare a leggere i quotidiani, in questa prima parte le prime pagine, poi nella seconda parte entriamo nei quotidiani di casa nostra per vedere quali sono le principali notizie dei giornali che trovate di fatto già in edicola. Ovviamente partiamo con le prime dei giornali regionali, partiamo con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, questa è l'edizione di Pescara, il titolo è di cronaca, si va ricarmato in casa per 8 ore è accaduto a Città Sant'Angelo, faccio saltare tutto il 47enne bloccato dopo una lunga trattativa e anche due irruzioni per tentare di portarlo a più miti consigli. In alto tasse e tributi, la parola all'esperto, tali gonfiata dai comuni, ecco che cosa fare per chiedere l'eventuale rimborso. A Pescara l'addio del prefetto Provolo che dice lo Stato farà conoscere la verità su Rigopiano. Poi la visita a Campi, il premier Gentiloni, martedì sarà in Abruzzo. La fotonotizia, l'incidente in autostrada, moglie e figlia morte, il papà va a processo, la piccola Vittoria e la mamma Emanuela Morosini, morte in autostrada nel 2014. Ovviamente nelle cronache c'è spazio per lo sport perché il Pescara batte l'Under 21-2-1, festa all'Adriatico in 3.000 ovviamente per seguire non solo i Biancazzurri di Zeman ma anche ovviamente la nazionale di Luigi Di Biaggio. A Francavilla, pezzi di cemento dai piloni, allarme dei residenti. E poi per la cronaca una storia che ha dell'incredibile, una donna di Giulianova muore a Rimini a 55 anni dopo un intervento che doveva essere, leggiamo, dovrebbe dovuto essere un'operazione di routine, si è rivelata fatale. Una donna di Giulianova è morta ieri all'ospedale di Rimini. E poi l'Abruzzo vola nel futuro, in basso, Kratos, il robot che assembla satelliti. Questa è una foto che ritrae questo robot allo stabilimento tale Salenia dell'Aquila. Dall'altra parte, all'interno ci sono anche le questioni nazionali. Presidente del Senato, Grasso, a Pescara, senza Bersani, dice il partito democratico è finito. In basso c'è spazio ovviamente non solo per la politica ma anche per lo sport. Calcio stasera in TV, l'Italia in Svezia, il primo round verso i mondiali. Si gioca a Solna, gara 1 degli spareggi per andare ai mondiali di Russia 2018. Andiamo adesso, cambiamo edizione, cambia anche il titolo, andiamo sull'edizione di Chieti. Il ministro inaugurerà il tribunale Chieti, visita di Orlando e Legnini, il 14 dicembre, dopo il cantiere da 6 milioni di euro. Cambia anche la fotonotizia, la promessa del Lanciano Calcio, scomparsa a 20 anni, donazione a pediatria nel ricordo di Lorenzo. In basso, volo dalla A14 a processo. Chieti papà giudizio per la morte di moglie e figlia. Abbiamo visto i pezzi di cemento dai piloni e l'allarme dei residenti a Francavilla, e allora scendiamo in basso. A Chieti, acqua sporca a scuola, cambiati i tubi. A Treglio il sansificio non doveva funzionare. Ovviamente il sansificio, parliamo della vicenda del sansificio, per vecere. Cambiamo ancora edizione, andiamo a vedere l'edizione di Teramo. Ovviamente il titolo è dedicato alla vicenda della donna giuliese, muore a 55 anni dopo l'intervento. Giulianova, la madre di tre figli, si era operata in una clinica privata in Romagna. Nella fotonotizia rimaniamo a Giulianova, pittrice sparita. I RIS tornano nella casa dei misteri. E poi in basso ci spostiamo in Val Vibrata, furti a raffica, presa la banda, colpiva nelle case tra la Val Vibrata e l'Ascolano. Per la politica, la crisi al comune di Teramo, Brucchi, può durare fino al termine di gennaio. Poi in basso a Roseto, non abusò della figlioccia di 13 anni, è stato assolto. Caso acqua, l'olio ai sindaci. State attenti a fare ricorso. Il vicepresidente della regione interviene sull'azione deliberata dall'Assemblea dei Sindaci per bloccare l'esperimento Sox. Si annuncia, il tavolo regionale sta chiedendo più misure di sicurezza. Chiudiamo con l'edizione aquilana. Doppio lavoro? Arriva la stangata. L'Aquila, ex dirigente ASL, condannato dalla Corte dei Conti, dovrà versare 266 mila euro. Nella fotonotizia, parliamo di sport, perché con l'Aquila Calcio in crisi, gesto d'amore, i tifosi fanno la spesa alla squadra. E questi che vedete sono Alessandro Steri e Nicolo Valenti, che sono due giocatori dell'Aquila, che mostrano proprio le provviste che gli sono state donate dai tifosi. Sapete che questi sono giocatori che non stanno percependo i rimborsi, nonostante continuino a giocare anche con ottimi risultati. In basso, ci spostiamo nella Marsica per parlare di politica, in particolar modo ad Avezzano. De Angelis, niente ribaltone. Avezzano, il Consiglio di Stato, per ora salva il Sindaco. Nelle cronache, la viabilità all'Aquila. Ecco la statale del dolore con gli incroci da brivido. E questa è una foto con il bivio di San Gregorio, dove ha perso la vita Valentina Fior di Gigli. In basso, torniamo ad Avezzano, per parlare di ospedale, una 89enne in barella per due giorni. A Sulmona, muri sporcati a scuola, multa per gli alunni. Vediamo, la dirigente scolastica della scuola media Panfilo Serafini di Sulmona ha multato. Gli alunni di una classe che hanno imbrattato i muri da poco ritinteggiati, sborseranno due euro a testa, ma i genitori non ci stanno e protestano. Cambiamo giornale adesso. Il messaggero che sceglie di aprire con il robot del futuro che è di matrice aquilana, porte aperte alla tale Salenia, lo stabilimento simbolo della rinascita per la presentazione di Kratos, un alleato dell'uomo, in grado di svolgere in tre ore lavori che oggi richiedono giorni. E poi vediamo ancora in alto, sempre all'Aquila i commercianti contestano il giro di vite sulla statale 17, a Chieti ZTL sotto controllo, telecamere e multe contro i furbetti. Per lo sport, più bianco azzurro che azzurro, Under 21 battuta dal Pescara, gol di Mancuso e di Cappelluzzo, l'amichevole di lusso allo stadio Adriatico, con il Pescara che dopo domani sera giocherà a Bari, il posticipo della giornata di Serie B contro la formazione di Fabio Grosso. Scendiamo piano piano in pagina per vedere il Consiglio di Stato. Ad Avezzano confermata l'anatra Zoppa, non cambiano gli equilibri al Comune di Avezzano, dove l'anatra Zoppa resterà fino alla sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto la richiesta di sospensiva. A Pescara il presidente Grasso apre il FLA e le sue parole io Falcone e l'addio al PD. Non so se ho lasciato io il partito, ha detto il presidente del Senato, o il partito, che non c'è più. Strage di sangue, due morti nel volo del viadotto, bancario a giudizio. E poi, l'addio del prefetto Provolo, Rigopiano, una ferita aperta, ma nessuna verità è stata nascosta. Pescara il prefetto Provolo rompe il silenzio dopo la tragedia. In basso, la vicenda della pittrice scomparsa, a casa del mistero, al setaccio del RIS. Chiudiamo andando in provincia di Teramo, vedendo la prima pagina della città, quotidiana appunto della provincia di Teramo, perché Minniti ridà ossigeno a Brucchi. Bilancio, il Ministero dell'Interno, prolunga l'agonia dell'amministrazione, fino a fine gennaio. In alto, le carte del Forum delle Acque, i laboratori unici, i laboratori 11 anni, di inadempienze in regione. E quello che vedete, ritratto nella foto, è Augusto De Sanctis. Poi, il progetto multimediale, Turismo, Adsu, riscopre l'antica via Cecilia. La fotonotizia, pittrice scomparsa, i carabinieri tornano a casa dei parenti. Il titolo è emblematico, si tratta di un sopralluogo bis. Entriamo anche all'interno del giornale, con alcuni richiami in prima, a Teramo, via libera, alla nuova sede dell'IZS, caporale, istituto zooprofilattico, sempre a Teramo, il NAS chiude una pizzeria in piazza. Garibaldi, poi maltrattamenti in famiglia, processo due teramani, che odiano le donne. Sotto la fotonotizia, invece, il biodigestore, trainerà investimenti, la ditta proponente, cerca di convincere Musciano. Per lo sport, in basso, il Teramo, primo non prenderle, e Teramo, a piccoli passi, verso la salvezza, e per la Val Vibrata, sempre in cronaca, sgominata la banda del buco. Chiudiamo con le prime pagine regionali, andiamo su quelle nazionali, partendo dal Corriere della Sera, perché si parte con il caso di Ostia, caso Ostia, stretta di Miniti, politica e sicurezza, il piano del Viminale, non esistono zone franche, verifica sui legami con i clan, controlli straordinari per il ballottaggio, testata al cronista, è stato fermato Roberto Spada, tutto nasce, insomma, dall'aggressione al giornalista di Nemo, da parte di Roberto Spada, che è stato fermato, proprio, ieri. La fotonotizia, intervento riuscito, la rinascita di Rayenne, di gene, le gemelline algerine, in braccio alla mamma e al papà, dopo il delicato intervento, al bambino Gesù di Roma, in alto, Banca Italia, Consob, scontro sulla vigilanza, le lettere, le ispezioni, e le falle del sistema, in alto, per lo sport mondiale, pronto Belotti, Italia alla prova del 9, stasera, c'è la Svezia. Cambiamo giornale, andiamo sulla prima pagina di Repubblica, scontro, Banca Italia, Consob, il crack degli istituti veneti, le accuse incrociate, sulle mancate informazioni, azioni gonfiate, bonde alleanti, la verità a due facce, degli organi di vigilanza, e poi, destra a un movimento 5 stelle, la sinistra divisa, sul caos di Ostia, il ballottaggio, il PD non si schiera, arrestato Spada, che vedete nella foto, dopo il pestaggio, e poi il reportage, il male minore, in quella che viene definita, la città nera, il messaggero, Brexit, la UE, non farà sconti, l'evento del messaggero, Barnier, capo dei negoziatori, per uscire, Londra dovrà pagare tutto, gentiloni, l'Europa non ingabbi la crescita, Tagliani, a decidere, sia la politica, e non i tecnocrati, e poi lo scambio di accuse, in commissione, salta il confronto, Venete, scontro tra Consob, e Banca Italia, non segnalò le anomalie, dice l'uno, tutto falso, risponde l'altro, come spesso, accade, Ostia, ha fermato spada, il quartiere lo difende, Minniti, ora la stretta, l'arresto dopo l'aggressione alla Trupprai, contestato il metodo mafioso, ed è caccia anche al complice che lo ha aiutato, in basso, emendamento del governo, dopo la soluzione di un persecutore, stalking, il risarcimento, non elimina il reato, nessun risarcimento, leggiamo, può sanare la condotta di uno stalker, ed estinguere il reato, o meglio, nessun compenso economico, potrà più farlo, perché il governo ha deciso di modificare la riforma penale, andiamo avanti, il fatto quotidiano, marcia antimafia, a Ostia, Boldrini e Grasso sì, il PD no, fermato il picchiatore, lesioni con metodo mafioso, in strada insulti ai carabinieri, MDP votate, 5 Stelle l'appello della Raggi, domani il corteo dopo la violenza, contro il cronista appunto, del Rai. E a proposito di Rai, si parla, sono a parlare della TV di Stato, rivolta il Rai contro Fabio Fazio, che vuole scipparsi la nazionale, per recuperare ascolti, il conduttore ha provato ad infilarsi nel dopo partita, duello con Sob Banca Italia, Banca Italia confessa, nascondeva i dati sulle banche, in crisi, crisi. E poi questa notizia abbastanza particolare, l'ultima bionda di Papa Francesco, dal 2018, vietato vendere sigarette ai dipendenti. Andiamo sul tempo, che invece apre con la foto del sindaco di Amatrice Pirozzi, So Pirozzi Amari, sindaco di Amatrice, si candida alla Regione Lazio, alleati irritati per lo strappo, e il centrodestra è nel caos. Il caso del litorale, ostia capoccia, spada fermato per mafia, contestata la violenza privata. E poi, si torna dopo tempo a discutere della vicenda di Marò, ridate la dignità, noi Marò, Girone scrive al generale Graziani, la sorte dei fucilieri, però, è ancora in bilico. E in basso, i coniugi Fini, di nuovo, dal PM, Elisabetta Tulliani, ha chiesto di essere interrogata, con lei ci sarà anche Gianfranco Fini. Libero, domani in piazza a Roma, i comunisti festeggiano 100 milioni di morti, Rizzo e i suoi nostalgici celebrano la rivoluzione russa del 17, che ha prodotto stragi, nessuno osa contestarli, ma se tu vai al cimitero a ricordare un fascista, ti denunciano. E poi, il nuovo libro di Nuzzi, Porci con la tonaca, in Vaticano, spuntano molestie sui chierichetti del Papa. In basso, un cane recupera più soldi di Equitalia, il labrator bacio, becca un milione in due mesi, all'aeroporto di Bergamo. il mattino, Consob, Banca Italia, lite sui controlli, l'Ue, l'Italia continua a crescere, ma resta ultima in Europa, Gentiloni, Paese, il nostro, affidabile, autorità di borsa in commissione, su Veneto, banca, nessuna segnalazione, via nazionale, risponde, no, lanciamo l'allarme. E così, scendiamo a centro pagina, botte al giornalista, fermato spada, a Ostia, insulti, sciocca, i carabinieri, il figlio del boss è casa Pound, è il caso 1, il caso 2, Rai dall'Ateneo salta il dibattito, Napoli, dittatura dei centri sociali, Camusso e D'Alema, non parlano. La stampa, banche, l'allarme che Draghi ignorò in una nota segreta del 2009, la vigilanza allertola, allora governatore della crisi di Vicenza, duello, Consob, Banca Italia in commissione, mai avvisati dell'emergenza, no, invece rispondono gli altri, sapevate. La fotonotizia, via i sauditi, venti di guerra sul Libano, Riyadh ai suoi cittadini, lasciate subito il paese, Beirut accusa, hanno rapito Hariri, il ruolo dell'Iran, politico ovviamente internazionale, il sole 24 ore, che ovviamente non può che aprire con il crack delle banche venete, sul crack delle banche, spaccatura Consob, Banca Italia, in audizione scambio di accuse, la commissione cancella il confronto all'americana, apponi, problemi non segnalati, Barbagallo risponde, l'allarme fu dato. E poi la rottamazione delle cartelle esattoriali, la rottamazione riapre anche per le vecchie cartelle, fino al 7 dicembre, il recupero delle prime due rate. Per la previdenza, adeguamento pensione, il governo propone calcolo su media biennale. Il giornale, i grillo comunisti, nuovi mostri politici, nasce l'asse M5S Bersagnani, prima la lotta al Jobs Act, poi alle urne, intanto ad Ostia è stato arrestato il picchiatore, fan dei 5 Stelle. In basso, Consob ora accusa Banca Italia, come i complici si inguaiano, il crack delle banche. Sottomessi all'Islam, la Francia non vuole il film sulla sopravvissuta della strage che colpì, ricorderete, Charlie Hebdo, a gennaio 2015. Il manifesto, i fatti di Ostia, l'asso di bastoni, lesioni aggravate e violenza privata, il giorno dopo il pestaggio del giornalista Rae, per Roberto Spada, scattano, come vedete, le manette, la procura imputa al fratello del boss di Ostia, l'aggravante del contesto mafioso, al ballottaggio, il PD nella parte di Ponzio Pilato. E intanto, Consob e Banca Italia, botte da orbi, commissione d'inchiesta, scontro frontale tra le due istituzioni. Andiamo avanti, l'avvenire, sponsor illegale, Lega Calcio si scuote, la denuncia di avvenire, si valuta l'uso improprio, la società, in front, cerca di difendere la correttezza del contratto, ma potrebbe fare un passo indietro con i russi di 1xbet, severe le proteste. E poi banche, scontro tra Consob e via nazionale, accuse sulla vigilanza degli istituti veneti. Poi la foto di Papa Luciani, venerabile, perché evidentemente aveva delle virtù eroiche. il secolo d'Italia, ma spada, era grillino. Ovviamente, adesso è l'argomento più delicato. In basso, in primo piano, da Alfano a Gigino Di Maio, tutte le foto con i boss, e poi la promessa di Salvini, non sarò mai come Renzi. Una guerra di generazioni, politica internazionale, ISIS, le verità della Nato. Vediamo con la verità, botte da orbi, fra Banca Italia e Consob, alla fine, per i crack. Non paga nessuno, lo scandalo delle banche spogliate, scarica barile sui controlli, in commissione di inchiesta, centro pagina, abusi sui chierichetti, al servizio del Papa. E poi, niente bonus, bebe, se non sei immigrato, i soldi per gli italiani non ci sono, ma i giudici impongono di darli agli stranieri, anche con permesso breve. E poi, in basso, la Rai, nel pallone per la Gabbanelli, salta il consiglio, e Orfeo, si eclissa. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani sportivi, ovviamente, partendo dalla Gazzetta dello Sport, la prima pagina, neanche a dirla, è dedicata allo spareggio di questa sera, gara d'andata a Solna, alle 20.45, playoff mondiale con la Svezia, ma noi siamo l'Italia. Gli azzurri, quattro titoli mondiali, e questo è innegabile, loro zero, innegabile anche questo, impensabile non andare in Russia, Ventura si gioca tutto, tra stasera e lunedì a San Siro, Zazza fuori per infortunio, con Immobile, davanti, ci sarà Belotti in basso, le chiavi tattiche, fasce decisive, la Svezia soffre i cross, sia alti che bassi, l'uomo più atteso, è il nostro Verratti, è i Verratti, è la tua gara, non deludere, Ventura e Buffon, il CT, io sereno, il capitano, vivo per queste sfide, e poi, non solo calcio, anche sci, sport invernali, visto che ci avviciniamo all'inverno, mitotoni, così beffai, lo Svezia, Stanmark, l'editoriale di Andrea Monti, del direttore della Gazzetta dello Sport, un'estate a luci spente, non scherziamo, leggiamo le prime righe, qui si fa l'Italia, o si muore da qualche settimana, una discreta dose di retorica risorgimentale, gonfia lo spareggio mondiale, contro la Svezia, a cui è dedicata la gazzettona speciale, che avete tra le mani. E questo è il riassunto, ovviamente, fotografico, dei nostri quattro titoli mondiali, 34, 38, 82 e 2006. Dunque, come vedete, prima pagina ad un solo argomento, e ovviamente, anche il Corriere dello Sport apre, con un invito ai nostri azzurri, portateci al mondiale Svezia-Italia, primo atto, spareggi in gioco, un posto ai mondiali, si parte, alle 20.45, la lunga notte azzurra. In basso, gli altri play-off, perché la Croazia ha già praticamente un piede e mezzo ai mondiali, Kalinic e Perisic saltano la Croazia, Grecia battuta 4-1, la Svizzera vince 1-0 a Belfast, con un rigore per nulla chiaro. in basso, il Milan, la UEFA rinvia il verdetto sul fair play finanziario, Napoli, da Perina Suarez, tutti i nomi per Sarri, sarà un fine settimana importante per il nostro Andrea Dovizioso, che è pronto al duello per il titolo, in pista a Valencia, oggi le prime libere, non sarà affatto facile per Dovizioso recuperare tanti punti su Marquez. Torniamo in alto, Juve alla carica, arriviamo a 7, John Elkan infiamma la festa per i 120 anni, nel club bianconero, il Napoli lo stimolo, ma noi, dice, vogliamo il settimo scudetto consecutivo. Chiudiamo con tutto sport, ore 20.45, Svezia Italia, noi ci crediamo, spareggi mondiali, stasera l'andata, e ovviamente la foto con il tricolore, con Buffon, Belotti, De Rossi e Verratti, vedete nella foto, su questa prima pagina molto tricolore, tutti con gli azzurri, sì, leggiamo, che provano a ipotecare la qualificazione a Russia 2018, si ferma Zaza per un problema al ginocchio, Ventura pronto ad anticipare il rientro di Belotti, in basso, Juve 50 nomi per il mercato, tifosi votano Emre Can, Emilinkovic, Savic, Torino blinda la difesa e fa gol, Gianco prenota il ritorno, Mijailovic si gode la mediana, altre notizie, Milan, fair play, esame infinito, l'Uefa rinvia il giudizio, Inter in cerca di nuovi messi, ecco gli 007 di ausilio, poi l'intervista a Pier Vincenzi, il naso rotto, per fortuna dice, ero un ex regbista, ci fermiamo qui per la prima parte, adesso le previsioni del tempo, la pubblicità, e poi rientriamo per entrare appunto, nei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6, adesso entriamo nei quotidiani di casa nostra, partiamo dal centro, perché l'Abruzzo vola nel futuro, ecco Kratos, il robot che monta i satelliti, l'Aquila in tre ore, esegue il lavoro che un uomo fa, in sei giorni, parlano gli esperti di tale Salenia, il primo esemplare in Europa, Kratos è il primo esemplare europeo di robot collaborativo, e per metà è stato progettato all'Aquila, per noi è un primato assoluto, spiega il direttore Ulisse di Marcantonio, e per noi abruzzesi non può che essere un motivo di assoluto vanto, ed è una notizia che ritroviamo anche in apertura del quotidiano Il Messaggero, perché nasce all'Aquila il robot del futuro, alleato dell'uomo, Kratos svolge in appena tre ore, lavori che richiedono giorni, la presentazione nello stabilimento Tales Alenia, che è il simbolo della rinascita dell'Aquila, in basso, da di vecchi la ricerca, c'è anche qui da Alessandro Contesta, il report dello Svimez, di un paio di giorni fa, che diceva insomma l'Abruzzo in controtendenza, rispetto anche alle regioni del sud Italia, per i dati sull'occupazione, evidentemente per Camillo D'Alessandro, sono dati un po' datati, produzione, export e occupazione, tutti i segni più, dice l'esponente di maggioranza, ma la CISL contesta evidentemente questa versione dei fatti. Andiamo avanti, sempre con il messaggero, andiamo a Pescara, Rigopiano, la ferita resterà aperta, sono le parole del prefetto Provolo, sul punto di lasciare Pescara, il prefetto Francesco Provolo, rompe il silenzio sulla tragedia del resort, e su due anni di lavoro, da quel giorno tutto è cambiato, ma vanno anche ricordati i successi, bonifica dell'area di risulta, e contrasto all'agro mafia, altre parole, trasferimento punitivo, pensarlo è logico, ma conta di più restituire una vita ordinaria all'istituzione. Poi, attimo per attimo, la tempesta perfetta, dietro quella telefonata, ovviamente il flashback su eventi, che a gennaio compieranno un anno, è che l'Abruzzo giustamente ancora non può mettersi, e non si metterà mai alle spalle, però vanno analizzati con particolare attenzione. Nessuna verità nascosta, dice il prefetto, sul 18 gennaio. Tutto verrà alla luce, e noi ovviamente ci auguriamo che sia così. Eravamo al lavoro da due giorni prima. In basso, cambiamo argomento, garage e cantine abitabili, sì dell'aula alla delibera del Movimento 5 Stelle, è bloccata la legge 40. La liberatoria della discordia, Dincecco, dice no al mercatino etnico, Forza Italia, da battaglia in consiglio, il ripristino di un mercatino etnico al centro della città, ovviamente, di Pescara. A Pescara l'ospite di lusso era il presidente del Senato Grasso, Grasso la vita in un libro, da Falcone all'addio al Partito Democratico, la stoccata, non so se sono uscito io, se invece il partito che non esiste più, la sfida pronto a fare politica davvero, la guerra, la mafia, la famiglia, i giovani. Questa è la foto del presidente del Senato, intervistato da Luca Soffri. Il programma continua con Veltroni e Fabio Volo. sempre a Pescara, creativa e solidale, è la moda a scuola, rivoluzione della sostenibilità, al centro del convegno che ha inaugurato l'anno didattico dell'Istituto Superiore, tre corsi attivi a Pescara, rappresentano un esempio per la regione, la sclocco, dice positivo, incontro con le aziende. in basso, a centropagina, anzi, popoli, le sorgenti del Pescara, minacciate dalla nuova cava, la fassa a Bortolo, presenta un progetto per ampliare l'impianto di 2,7 milioni di metri cubi, il forum H2O, è sul piede di guerra. in basso, a Montesilvano, lavori stradali, al via i lavori stradali, resta al palo l'asilo di via Chiarini. Sempre a Montesilvano, quella che viene definita la bomba etnica, rispunta l'accampamento blitz all'alba. Sulla spiaggia, prima di cambiare provincia, torniamo sul centro, sulle parole del prefetto, il prefetto della catastrofe, lo Stato farà conoscere la verità su Rigopiano, Provolo, Lascia, Pescara, quei 29 morti restano una ferita aperta anche per me, poi ammette, chi risponde al telefono, deve avere professionalità. L'inchiesta, nuova denuncia in procura, nuova denuncia è stata presentata in procura dagli avvocati di Cristiana Valentini, Goffredo Tattozzi e Massimo Manieri, che nell'inchiesta sui 29 morti di Rigopiano, difendono il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta e il tecnico comunale Enrico Colangeli, indagati con altre 4 persone. E poi domani a Manopello si parlerà di Abruzzo, capitale delle case fatte di terra. Incontro tra decine di sindaci che arrivano anche dalla Sardegna. Passiamo la politica nazionale, per andare un po' sui fatti di casa nostra, la Fondo a Renzi di Grasso, il vero PD era quello di Bersani, il presidente del Senato, dopo il divorzio dal partito ammette. Ora vediamo se riesco ad esprimere me stesso. E poi andiamo ancora avanti, eccoci qua, a Pescara, città senza luci, viene definita. Lampioni in tilt, interi rioni al buio, la protesta dei residenti, e così da almeno 10 giorni le luci si accendono solo la mattina, ci salvano le insegne e i negozi aperti. E qui c'è lo schema delle strade che sono al buio, eccole qua, via Battisti, via De Amicis, via Perugia, via Del Concilio, via L'Aquila, via Teramo, via Del Santuario, via Aldomoro e via Palmerini, ai Colli. In basso, piogge e topi, 2.000 impianti danneggiati, il vice sindaco Blasioli sono già entrati in azione tre squadre di operai, chiediamo pazienza. Dall'altra parte, i progetti per il traffico, addio all'isola, su Corso Vittorio, arrivano i bus anche nei weekend, l'amministrazione comunale è pronta ad accogliere la richiesta di Tua per riaprire la strada nei due sensi di marcia ai mezzi pubblici. Domattina la maggioranza si riunisce per decidere l'assessore civitarese che dice non escludo in futuro un accesso anche alle auto. In basso, i posti per i disabili sono un blef ferrante di carrozzine determinate, boccia il piano del comune, politici dice che sono stati privilegiati. Sempre a Pescara fermeremo il progetto del mercatino, il centrodestra e i Cinque Stelle hanno aperto il consiglio, hanno aperto lo scontro in consiglio comunale con mille emendamenti per bloccare la delibera. E Moreno di Pietrantonio del Partito Democratico dice basta con le proteste, noi non rinunceremo a quell'iniziativa. In basso, stop ai negozi in boxe scantinati. Il Movimento Cinque Stelle abbiamo fermato anche a Pescara la sanatoria del regionale. L'Aula dice no al recepimento della legge. In basso, sfollati Ater sia i rimborsi per i traslochi, accolta la richiesta per Via Lago di Borgiano, una vicenda di cui ci siamo occupati qualche settimana fa. A Pescara, scoperta falsa infermiera, scatta la denuncia dei Nass, la donna è dipendente di una cooperativa convenzionata con il sistema sanitario e accusata di aver esercitato abusivamente la professione senza il diploma. Tre mesi fa c'era stato un caso in ospedale. A centro pagina, cronaca, ragazzino terribile, a 13 anni ruba 200 euro, terzo colpo per il minorenne che ha preso di mira un negozio, la titolare dice ormai lo conoscono praticamente tutti. In basso, Corpa, l'azienda non paga, vertenza dei 140 lavoratori della Corpa SRL. A Pescara parliamo di sanità, tosse e febbre, reparti pieni, ma è presto per l'influenza, geriatria e pediatria già scoppiano per i virus a carico di gole e intestino, i medici la vera epidemia arriverà a fine dicembre, bisogna vaccinarsi. di spalla, Lombardi, presto l'unità subintensiva. In basso, seminari sul cibo all'arberghiero, partiti corsi per studenti e il risultato del gemellaggio tra istituto e università. all'aurum invece si balla la pizzica con Mangano e Puglia Folk alle 20.30 concerto gratuito patrocinato del Comune e dal Parco del Gargano musicisti e ballerine per lo spettacolo Zingari e nomadi della Tarantella. in alto a Pescara via Monte Faito partono le potature e poi convegno all'hotel Plaza violenza sulle donne si parla di Jennifer Monia ed Esther in basso Flaiano spettacolo di beneficenza studenti sul palco per le vittime di Rigopiano via Gran Sasso prodotti artigianali ed artistici al mercato di Etsy made in Italy andiamo a Francavilla pezzi di cemento dai piloni allarme dei residenti a Francavilla incontrata a Santa Cecilia si temono problemi più gravi autostrade già intervenuta sul viadotto inserito in un restauro più ampio in basso a Catignano il 118 al posto dell'ex biblioteca il Comune ha ultimato il nuovo distretto sanitario che servirà 5.000 persone sempre a Francavilla incontro all'Aca per il terzo depuratore a Monte Silvano tragedia sfiorata si barricarmato faccio saltare tutto Città Sant'Angelo il 47enne si è chiuso in casa con una bombola di gas e l'accendino preso dai carabinieri dopo 8 ore l'uomo aveva con sé il suo pitbull i militari hanno fatto irruzione due volte per portarlo poi fuori di casa a Città Sant'Angelo sempre per la cronaca evade dai domiciliari e va a rubare a lì per insomma non ha fatto molta strada e poi per la politica ricorderete l'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordo ma va con Salvini sarà il responsabile territoriale Francesca Lione la coordinatrice è cittadina a Montesilvano isola ecologica per la differenziata l'area sarà realizzata a fine mese ma la zona è ancora da definire all'anno adesso l'Alfa Sigma non licenzia più sono salvi tutti i posti di lavoro una buona notizia all'anno l'azienda farmaceutica aveva avviato a settembre l'iter per mandare a casa 13 dipendenti l'accordo tra proprietà e sindacati prevede il ritiro degli esuberi e il rilancio dello stabilimento cronaca penne cade mentre sistema l'escavatore grave operaio di 32 anni ricoverato in ospedale dopo aver battuto la testa soccorso dall'elicottero cambiamo provincia adesso andiamo a Chieti la tragedia sulla A14 a Ortona che ricorderete moglie e figlia a morte il papà va a processo l'auto guidata dall'uomo precipitò dal viadotto di 60 metri rinviato a giudizio per duplice omicidio colposo e poi invece sempre per la cronaca caccia la banda del Ducato Bianco colpo fallito al centro commerciale Megalò il ministro Orlando inaugurerà il tribunale Chieti il 14 dicembre visita di Orlando dopo i lavori da 6 milioni di euro Tenaglia dice è stata salvata una istituzione in basso stato digitale incontro con Madia e Legnini il 16 all'università di Chieti grandi nomi della pubblica amministrazione attesi anche Severino e Boeri all'Aquila muri sporchi a scuola muri sporcati a scuola alunni multati la preside non trova i responsabili e allora decide di punire tutti sanzione di 2 euro a testa genitori divisi sul provvedimento è successo a Sulmona alla scuola media Serafini leggiamo anche la dichiarazione per esempio del professore Intenza il decoro della scuola va rispettato da qui la regola per insegnare il rispetto dei beni comuni chi rompe paga chi imbratta pure a centropagina Avezzano niente posti letto in barella per due giorni Avezzano dissede una 89enne in ospedale in codice rosso la ASL rimedia dopo le proteste doppio lavoro condannato dirigente ASL l'Aquila sentenza della Corte dei Conti nei confronti di un ingegnere pronto il ricorso a Roma a Teramo muore dopo un intervento alla schiena banale operazione in una clinica privata in Romagna diventa fatale per regina di Silvestre 55 anni madre di tre figli è davvero un dramma leggiamo dei particolari la donna è stata per quattro giorni in rianimazione all'ospedale di Rimini ma ieri alle 12 non ce l'ha fatta la famiglia ha presentato un esposto il marito Pierino Ruffini voglio giustizia per mia moglie e ha ragione il marito in basso ancora cronaca tornano i riste cercano tracce in manzarda il giallo della pittrice sparita Giulianova nuovi accertamenti nella casa dell'ex marito e del figlio sempre per la cronaca furti nelle case tra Val Vibrato e Ascolano scacco matto alla banda del buco prima di passare allo sport andiamo avanti cambiando provincia sul messaggero tornando proprio qui all'Aquila con la chiusura della SS17 si perdono posti di lavoro la Confcommercio respinge l'ipotesi di spostare sul nucleo l'accesso sul nucleo industriale chiesto un tavolo urgente di confronto con gli esponenti dell'amministrazione per la ricostruzione cantieri pubblici dal lance un pacchetto di proposte in basso una questione occupazione di cui ci siamo occupati proprio ieri e perdonate il bisticcio di parole nel corso dei nostri notiziari ICER battaglia contro gli esuberi i sindacati dicono spalmarli altrove la pezzopane promette lotterò in senato per quelli che sono i 200 esuberi di ICER che dovrebbero essere spalmati come dicono le associazioni sindacali anche nei call center di Milano e Torino non tutti all'Aquila e a Roma sempre all'Aquila incendio a fonte vetica un milione e mezzo di danni perizia dei forestali carabinieri alla quale ha collaborato anche l'università sezione scienze ambientali per lo spaventoso evento 14 giovani tutti del pescarese rischiano di finire sotto processo la parola ora aspetta al PM Picuti paura in via Castiglione sotto tetto in fiamme durante la ricostruzione andiamo avanti pochi posti letto studio stronca il parco save Gran Sasso e progetto montagna attaccano una situazione davvero disastrosa in basso musei statali nel 2016 l'Abruzzo al penultimo posto per visitatori ad Avezzano il Consiglio di Stato concede la sospensiva nella tarda serata di ieri i giudici stoppano ogni decisione entreranno nel merito della questione l'8 febbraio prossimo decisione il Tar dell'Aquila che lo scorso 12 ottobre aveva di fatto ribaltato la maggioranza e dunque sospesa a Celano violenza su un ragazzo disabile l'accusato nega tutto a Sulmona c'è il rimpasto di maggioranza dunque una maggioranza che dribbla gli interrogativi musp da finire a Sulmona è allarme tra i genitori che dicono basta chiacchiere è arrivato il momento di conoscere come stanno le cose a Carsoli manca l'acqua di Pangrazio scrive a D'Alfonso a Chieti ZTL ora scattano le multe telecamere antifurbetti sono attivi a pieno regime i varchi di via Ravizza e via De Lollis da ieri verbali per i trasgressori le sanzioni sono fino a 80 euro per la cronaca scoperti con la cocaina in arresto un arresto e una denuncia in basso alla notizia che abbiamo letto anche prima Orlando e Legnini inaugureranno il tribunale la cerimonia il 14 dicembre dopo i lavori post terremoto soddisfazione di Tenaglia per se moglie e figlia va a processo Aristone accusato di omicidio colposo alla guida dell'auto che sfondò il guardrail Alberto Aristone il bancario di Pescara sarà processato per omicidio colposo a centro pagina emergenza frantoi per lo stoccaggio spunta l'ipotesi dell'impianto Sirolli scendiamo ancora Dragaggio e Fanghi in mare Mazzocca progetto carente il sottosegretario regionale risponde a Monticelli va coinvolto il comitato via nazionale a vasto buio e degrado sul lungomare Cordella e a corso Mazzini furti e incendi a Teramo i tre assessori di futuro in si dimettono un atto dovuto e sempre più crisi di maggioranza Brucchi io non credo ai diktati il sindaco redistribuisce le deleghe tra i cinque esponenti della giunta l'addio sancito con una lettera persistente in governabilità ma il primo cittadino non intende evidentemente mollare e vediamo che a darle ossigeno viene anche il ministro degli interni minniti perché andiamo sulla città il ministero dà ossigeno a Brucchi fino a capodanno il termine per approvare il bilancio nei comuni del cratere spostato dall'11 novembre al 31 dicembre quindi il riassunto delle deleghe nella quinta giunta a Brucchi a cinque assessori insomma un numero che si ripete in basso Berardini fa l'elenco invece ovviamente essendo opposizione delle incompiute di Brucchi torniamo sul messaggero per finire di vedere la pagina per la cronaca chiedeva soldi per la droga e maltrattava la madre in basso esperimento nucleare sicuro nessun allarme il responsabile del SOX parla ad un convegno neanche con un sisma del 17.1 il contenitore potrebbe rompersi cambiamo pagina ma restiamo in provincia di Teramo i RIS tornano nella casa dei Santoleri hanno perquisito con grande attenzione l'appartamento intestato dai due coniugi romani che lo occupavano salto variamente nei giorni scorsi avevano fatto uso anche del luminol per individuare eventuali macchie di sangue sospette ovviamente parliamo della vicenda della pittrice scomparsa la centropagina locali assaltate tentate rapine la confesercenti è una situazione assolutamente grave in basso piano regolatore entro la fine dell'anno a Tortoreto le osservazioni al vaglio del consiglio e poi la sentenza moleste sessuali assolto il padrino di battesimo rimaniamo in provincia di Teramo perché andiamo a vedere altre notizie rimanendo proprio a Teramo via libera del primo lotto al primo lotto del nuovo caporale 25 milioni del master plan finanzieranno le strutture a collaterrato e nuovi laboratori a campo boario il nas chiude una pizzeria di piazza garibaldi carabinieri trovano alimenti congelati spacciati per freschi prodotti scaduti e lavoratori in nero addirittura tonno in stato di decomposizione ancora a Teramo infopoint turistico multimediale all'ex rettorato l'ADSU si aggiudica un mando europeo per promuovere i punti di interesse sull'antica via Cecilia in provincia due a processo per maltrattamenti in famiglia due teramani teramani rinviati a giudizio il primo ha picchiato la moglie il secondo invece madre e fratello leggiamo nel box quello che è un vortice di violenza un 31enne avrebbe spesso alzato le mani nei confronti della moglie in preda ai fumi dell'alcol e al tarlo della gelosia strappava con forza di mano il cellulare per leggere i messaggi e sapere con chi chattava e la picchiava per ogni resistenza post sisma a Canzano il giudice cambia il reato non si procederà più per truffa ma per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato sempre in provincia a Mosciano il biodigestore trainerà altri investimenti i promotori del progetto difendono l'impianto di Mosciano valorizzerà l'intera zona e le aree produttive in Val Vibrata sgominata la banda del buco quattro albanesi in manette dopo il blitz della polizia in un appartamento gli agenti della mobile beccano i ladri appena rientrati da una serata di colpi assegno nel Teramano la pittrice scomparsa e ristorna a casa del figlio dell'ex marito ispezionati locali vicini all'abitazione dei due indagati e dei tre vani caldaia nessuna traccia ancora della Rapposelli e poi per la cronaca assolto dall'accusa di abusi sulla figlioccia il 44enne Rosetano era finita la sbarra per violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni e poi l'inaugurazione che c'è stata ieri l'universo si fa un regalo da 50 milioni per i 18 anni ieri mattina taglio nel naso per il megacentro commerciale di Silvi rinnovato dalla famiglia De Eugenio alcune foto e poi prima di passare allo prima di passare allo sport sulla città vediamo lo sport partendo dal centro ripartendo dalla serie B domenica sera il big match profumo di gol Zeman Bari temibile ma il pescare in crescita Boemo lancia il Delfino contro la squadra che vanta il migliore attacco della B sotto osservazione i biancazzurri mancati Galano in prota 16 reti in due 9 per Galano 7 per in prota la sfida ai raggi X tra due allenatori come Fabio Gros e Zdenek Zeman e le loro ovviamente squadre Bari Pescara ovviamente sarà un posticipo tutto da seguire e che noi seguiremo ovviamente domenica come al solito con l'appuntamento con Diretta Staglio peraltro sarà una domenica lunghissima che partirà dal pomeriggio e vi accompagnerà fino al post gara proprio di Bari Pescara andiamo avanti perché festa all'Adriatico in 3.000 per l'Under 21 davanti a un pubblico numeroso e tanti bambini Pescara che vince in rimonta Mancuso e Cappelluzzo ribaltano la rete siglata dall'Azzurrino dell'Atalanta Vido che è stato peraltro anche lui un obiettivo molto concreto di mercato del Pescara in estate di Biaggio allievo di Zeeman CT dell'Under 21 che dice auguro a Zeeman di riportare il Delfino in Serie A l'ex Biancazzurro Ronaldo Mandragora non ho dimenticato le emozioni del campionato vinto qui andiamo avanti Serie C Campitelli esalta il Teramo questa squadra mi piace il mercato non ci penso il presidente dopo il pareggio di Trieste buon punto Asta sta lavorando bene con il tempo vedremo anche un atteggiamento un po' più sbarazzino in basso domani riparte l'eccellenza con l'anticipo Torrese Capistrello il Real Giulianova capolista nella Tana dell'Acqua e Sapone in Serie D crisi l'Aquila i tifosi fanno la spesa alla squadra un gesto d'amore per il rosso-blu che hanno ricevuto provviste da alcuni sostenitori tre ex aquilani vincono la causa con la società a vasto invece il bomber Leonetti si racconta due situazioni molto molto differenti calcio a 5 Pescara Colini fine dell'amore ieri è arrivato il comunicato ufficiale Patriarca torna in bianco-azzurro dopo la sconfitta con Milano la società si separa con l'esperto tecnico romano e punta di nuovo sull'allenatore pescarese l'Acqua e Sapone invece è a un passo da Boccao per il basket situazione difficilissima a Roseto Roseto a Bergamo senza rinforzi Raffa lontano Sharks domani in campo ma il play italiano-americano non arriva Infante dice una gara fondamentale per il ciclismo giovanile amici della Bici Junior campioni e complimenti a loro per l'ottavo anno andiamo sul messaggero per vedere lo sport Pescara buone notizie Biancazzurri battono in amichevole l'Under 21 Mancuso e Cappelluzzo rispondono a Vido Di Biagio bello ritrovare Zeman non è affatto cambiato il boemo buon test a Bari è dura ma ce la giochiamo in basso Mandragora giocatore della Juventus ma in questo momento a Crotone Biancazzurri vi aspetto in Serie A e poi le sue parole qui ho vissuto un anno stupendo oggi ho visto una squadra in palla in campionato può fare certamente molto bene per la Serie C ripeto andiamo in casa Teramo bravo Teramo se in media salvezza per il basket Cimorosi Roseto rimedierà agli errori Raffa niente Bergamo è scaduto il termine per il tesseramento e poi all'Aquila i tifosi fanno la spesa per la squadra ma per il basket parte il torneo di Serie D Chieti e la squadra da battere il DN del Conte ci presentiamo al via con un duplice obiettivo prima vincere poi allargare la società e rilevare un titolo sportivo per far ripartire il basket a Chieti chiudiamo con la Serie C andando sul quotidiano la città Teramo a piccoli passi verso la salvezza con la Triestina squadra come al solito brillante sfrontata alcune scelte però sembrano penalizzarla riducendone la capacità di fare male con questa notizia noi chiudiamo questo appuntamento con Mattino 6 che torna domani alle ore 8 io vi ricordo l'appuntamento con il nostro notiziario alle ore 14 con i fatti principali della nostra regione è tutto buona giornata con i fatti principali con i fatti principali con i fatti principali con i fatti principali con i fatti principali